ce ne sono quattro io ne voglio due buonasera buonasera a tutti buonasera a voi che siete qui a quelli che ci seguono online visto che hanno già fatto un sondaggio su chi è qui per la prima volta volevo chiedere se c'è qualcuno di Livorno nessuno è impossibile quelli di Livorno non sanno leggere abbiamo un servizio di sicurezza che li ha bloccati tutti per l'online lì non posso farci nulla allora la prima volta che il nome di Samantha appare in copertina prima scherzavamo e dicevamo su un libro per adulteri perché invece già sul libro per ragazzi di cui hanno prima accennato che è in finale nel premio insomma il tuo nome c'era più volte Marco però nelle presentazioni ha detto che tu partecipavi attivamente alla alla nascita del libro a dire la verità scherzando si lamentava che tu volessi il nome sul sul contratto per poi non se scherzava per poi non non metterlo in il mio commercialista mi ha detto di non rispondere a questa domanda volevo vago vago volevo cominciare da te che ci raccontassi come mai proprio adesso hai fatto questo diciamo coming out letterario tanto buonasera a tutti in realtà il mio nome è in copertina per volontà dell'editore perché appunto anche questo libro era nato in collaborazione abbiamo immaginato la trama i personaggi insieme io e Marco però poi in origine il nome sulla copertina doveva essere solo quello di Marco non peraltro ma perché ormai lui è un brand e siccome abbiamo studiato tutte e due materie scientifiche alla scaramanzia non ci crediamo la mia idea era che portasse malissimo aggiungere anche il mio nome e quindi eravamo decisi così poi in realtà Marco ha scritto il primo capitolo non il primo ma uno il primo che lui ha scritto di questa storia l'ha mandata per dare un'idea appunto Antonio Sellerio e Antonio leggendola poi dopo averla letta ci ha chiamato e ci ha detto bello mi è piaciuto va bene mi piace il personaggio però abbiate pazienza io non me la sento di pubblicare questo libro solo a nome di Marco perché per quello che dite per quello che succede insomma per come vi presentate la protagonista io pubblicherei un libro e poi mi comporterai in maniera assolutamente opposta e parole sue la letteratura deve insegnare qualcosa e quindi è stato lui in pratica cioè appunto Antonio Sellerio che ha deciso che ha deciso che quella roba che scrivevamo noi era letteratura il che è già abbastanza imparazzante una letteratura questa che ha due protagonisti femminili questa è una delle cause per cui ci voleva anche un nome femminile in copertina o no? perché voi avete due personaggi femminili molto forti allora credo che uno scrittore maschio abbia il diritto di scrivere di personaggi credo almeno a livello legale se mi rassicurate che diventa rischioso no il fatto è che in questo caso mentre di solito Samantha si inventa le trame e poi quello che io faccio è vestirle con i personaggi e diciamo far parlare queste trame attraverso i personaggi stavolta oltre alla trama il personaggio era suo era il personaggio centrale quello che noi abbiamo sempre chiamato nella nostra testa come la mamma era suo e quindi era un po' stavolta sarebbe stato veramente insensato far finta di niente e continuare a credere alla scaramanzia quindi e in più c'era il fatto è che abbiamo messo questi due personaggi femminili il primo diciamo Serena che è quello che le è venuto in mente fin da subito e l'altro Corinna che viene da un altro romanzo in realtà d'Argento Vivo che è in realtà il primo romanzo la cui trama è sua quindi io fondamentalmente non faccio quasi nulla mi rubo e faccio collage allora no quindi fondamentalmente tutto questo è per arrivare piano piano allo scopo finale recondito di mandare lei in giro a fare le presentazioni far scrivere a lei i libri e io posso stare a casa a vedere la partita e questo ora chiedi cosa fa il Torino no quello no quello me lo dicono alla fine penso che stasera avevo un magnifico maglione bianconero che non ho messo e non posso metterlo nemmeno domani sera credo quindi lo porterò a casa sappiate che però ce l'avevo ho sbagliato diciamo qualcosa della trama perché l'abbiamo accennata allora la mamma di cui parlano è Serena che è una casalinga ultra indaffarata con una laurea in chimica che è un po' appeso al muro perché era presa in un mondo molto maschilista e quindi fa la mamma porta il bambino tutti i giorni a scuola e poi con le amiche spesso si trovano e fanno una passeggiata un giorno tornando da questa passeggiata si accorge di avere perso le chiavi torna indietro a cercarle e si imbatte in un cadavere il cadavere del professore di musica della scuola professor Carroselli della scuola frequentata dal loro figlio l'unica scuola del paese a indagare arriva il secondo personaggio il sovrintendente Corinna Stelea una donna di un metro e novanta che è l'incaricata ufficiale delle indagini però Serena da testimone grazie anche al suo fiuto per indagini e qui fiuto vuol dire qualcosa di più che istinto per l'indagine si troverà appunto da testimone a detective io qua mi fermo se volete aggiungere qualcosa dite voi se no per me poi mi dicono che dico troppo ma forse si può solo aggiungere che come in tutti i libri di Marco tutta l'azione si svolge in un paesino della Toscana vicino a Pisa che poi alla fine è una descrizione più o meno fantasiosa del paese in cui viviamo noi quindi c'è il fiume che nel nostro caso è il serchio c'è la campagna più o meno bella e ovviamente c'è la possibilità di andare in città piccola città vicino per cui abbiamo personaggi di paese e di città sì l'altra cosa è un po' anche una piccola giustizia rispetto al fatto che tutte le persone si immaginano che la Toscana sia bella che tutta la Toscana sia bella no ci sono anche posti dove la Toscana è orgogliosamente brutta ecco noi viviamo in uno di quei posti lì perché se voi arriva sì sì no guardi è presente quei paesi che crescono sulla strada che sono state diciamo le case sono detriti mandati depositati dal fiume che si sono bloccati lì ecco però è il nostro paese il posto dove viviamo ci siamo piovuti esattamente ci definiscono così piovuti perché non siamo nati lì io sono di un altro paese di Navacchio non di e Samantha è di Venturina addirittura oltre la linea gotica già oltre la provincia di Livorno nominalmente e quando appunto vabbè la prima una delle prime volte che ho interagito con i vecchianesi ho spiegato che io ero lo scrittore più famoso di un paese da 3.000 persone al che l'edicolante mi ha guardato come si guardano gli scemi mi ha portato fuori mi ha detto vedi quella asa lì quella casa gialla lì ecco quella è la casa di Antonio Tabucchi non ero nemmeno lo scrittore più famoso di un paese da 3.000 persone quindi lei ha cominciato è per quello che avete traslocato esattamente volevo essere adesso abito a Gello quanti siamo? 500? quindi lì veramente non c'è per qualche anno dovresti star tranquillo no perché ora se lei mi prende piede e inizia a scrivere è un casino cioè ho fatto una casa sul confine uno di qua e uno di là in modo che ognuno ha il suo paese senti proprio questa dei paesi era una delle domande che ti volevo fare che vi volevo fare perché qui come Pineta come altri libri che sono ambientati tutti in luoghi molto piccoli addirittura alcuni in un casale in una villa sembra un po' Saint Mary Mead di Miss Parple questi paesini dove molto dell'indagine si fa col pettegolezzo ascoltando guardando in giro vi piace questo tipo di giallo classico in fondo in effetti l'idea è proprio quella di scrivere dei gialli classici all'Agata Cristi possibilmente è lassù però poi il paese dà delle possibilità perché offre dei personaggi che sono veramente incredibili alla fine raccontiamo soltanto quello che vediamo più o meno senza non è che a Vecchiano o San Giuliano ci sia un morto l'anno però i personaggi spesso non sono quelli che leggete non sono altro se non la descrizione di persone che realmente incontriamo a Vecchiano appunto tutte le mattine quando andavamo al bar incontravamo un signore sempre ben vestito con una bella giacca a volte la cravatta con i capelli con una lieve sfumatura violetta molto elegante anche nel modo di parlare e si distingueva proprio era una mosca bianca in mezzo a tutti quelli che andavano in bicicletta oppure avevano parcheggiato il trattore lì fuori e quindi noi siamo andati avanti mesi a immaginarci la vita di quest'uomo e l'avevamo fatto diventare 007 un grande scrittore insomma gli avevamo costruito tutta una sua identità e poi abbiamo scoperto che in realtà era stato un sarto anche un sarto di un certo prestigio insomma e che vabbè niente si era originario del paese poi era tornato da anziano però come lui poi ce ne sono tanti altri quindi ogni piccola cosa in realtà incuriosisce e noi ci divertiamo a ricamarci sopra anche perché il paese ti dà la giusta distanza cioè in città molto spesso tu sei a contatto per tanto tempo con determinate persone però ci sei a contatto sempre nello stesso contesto che sia il lavoro o che sia la commessa del bar o il cameriere del posto dove vai a mangiare o quello incontri le persone molto spesso in un determinato contesto in paese le vedi mentre vangano il campo al bar mentre zappano l'orto mentre guidano il trattore mentre vanno a comprare il giornale si è agricolo e la gente mormora mentre comprano il giornale mentre portano i figli a scuola li vedi in tutta una serie di occasioni che sono lavorative familiari di svago e quindi hai un'idea molto più completa che potrebbe essere clamorosamente erronea però è comunque vedi le persone da più sfaccettature e questo rende il giallo molto più interessante perché nel meccanismo del giallo ci entri solo quando ti sembra di conoscere le persone quando ti frega qualcosa di loro è per questo motivo che il giallo classico si svolge sempre in piccoli in piccoli ambienti più sono raccolti più sono isolati e meglio è perché in questo modo hai la sensazione che tutti conoscano tutti e però ce n'è sempre qualcuno che li conosce un pochino più degli altri vi ispirate a qualcuno in particolare ogni tanto qualcosa vi colpisce non so queste persone normali che incontrate nel paese diventano poi le persone normali in situazioni eccezionali che sono quelle dei gialli per esempio il professore di musica di vostro figlio vive sereno? Sì anche perché è una professoressa quindi non si identifica è tranquilla beh non tanto in questo libro ma in quello che abbiamo scritto per ragazzi inchiusi fuori la poliziotta alla fine è fortemente ispirata alla nostra precedente vicina noi siamo andati diciamo che abbiamo incominciato a immaginare quel giallo a partire da lei è una persona che appunto viveva siamo registrati nella casa di fronte e ha tre cani che abbaiano dalla mattina alla sera e quindi noi abbiamo appunto incominciato a immaginarci qualcuno che potesse perché hai questi cani che sono così noiosi non abbiamo incominciato a immaginarci proprio questo all'inizio ci immaginavamo altre cose a base di corde contrappesi e altro e poi però alla fine alla fine gli abbiamo dato un ruolo positivo sì alla fine sì gli abbiamo dato un ruolo positivo perché insomma perché questa persona questo personaggio ci ispirava simpatia però il fatto è questo che quasi sempre i personaggi letterari nascono da persone reali e poi ci metti te quello che ti immagini quello che a quella persona secondo te starebbe starebbe a quella persona starebbe bene non mi ricordo quale mi sembra che ci fosse un film francese di qualche anno fa io comincio a diventare un pochino un pochino attempato e quindi la memoria a breve termine è la prima cosa che se ne va poi la seconda è la memoria a breve termine e questa persona il protagonista di questo film stava seduto sulla panchina e si divertiva a indovinare i lavori delle persone che passavano a volte beccandoci a volte no però la cosa divertente era il metodo con il quale tentava di indovinare è molto più succoso e divertente così perché magari poi quando scopri la realtà non è così fantasiosa bellina organizzata come come credevi si parte sempre da un elemento di realtà e poi ti ci diverti poi anche la stessa serena per dire è fortemente ispirata ha tante caratteristiche prese pescate una per una dalle nostre amiche vicine conoscenti non per niente ha una chimica si chiama Serena come una nostra carissima amica che è sposata con Virgilio quindi i nomi non sono di fantasia e Virgilio ha davvero la maglietta di Atira ecco allora la domanda me la gioco subito c'è qualcosa che uno dei due ha tipo la maglietta che l'altro vorrebbe buttare via da anni e non si riesce avete una maglietta il feticcio qualcosa Marco ha tutta una collezione di magliette da ping pong posso dire ping pong di marche improbabili che ormai hanno tutte le cuciture un po' lasciate le gommature bruciate casualmente dal ferro però niente non si possono buttare via c'è un cassetto che non si chiude ma è anche perché quella più bella la maglietta di Lady Gaga me l'hai buttata via per davvero era una maglietta sobrissima era arancione rosa e blu fosforescenti meravigliosa si vedeva da 400 metri un giorno o diciamo qualcuno ha pubblicato sui social una mia foto con quella maglietta addosso purtroppo questa è stata fatta in un contesto sbagliato perché avevo accanto un atleta vero quindi c'ero io in pantaloccini accanto avevo questa sorta di giovane adone sembra il concetto sembrava prima e dopo il pensionamento e quindi sono tornato a casa e la maglietta non c'era più è entrata nella grande entropia dell'universo e un giorno mi dirai che cosa che cosa ne hai fatto perché è in fondo al cassetto torno seria un attimo ma poi arrivo con le altre domande prima parlavamo dei personaggi però qui ce n'è uno che torna perché Corinna era già in angento vivo cosa aveva di così speciale tra tutti i personaggi che avete inventato nei libri per tornare a parte l'altezza a parte l'altezza aveva la possibilità di carriera cioè Corinna quando in argento vivo era un agente di polizia in questo momento la vediamo sovrintendente però che legge continuamente le regole sì esattamente perché quello è una è un qualcosa che diciamo del quale io e lei in misura differente per cose differenti siamo maniaci le regole sono un qualcosa che molto spesso viene visto come una limitazione della fantasia in realtà le regole sono un ottimo incentivo alla fantasia perché è molto più difficile fare un percorso che vada qui a lì seguendo le regole che non andando a diritto è un qualcosa io penso spesso che avere delle regole è un po' come avere i paletti lungo una pista una pista da sci certo ci devi passare intorno ma il modo in cui ci passi intorno determina in qualche modo la velocità a cui vai il percorso che fai ve lo ricordate tutti una trentina di anni fa più o meno dopo che ebbero introdotto i paletti snodabili quelli che andavano giù quando uno ci picchiava un ragazzone dello sport italiano tale Alberto Tomba ebbe un'intuizione il regolamento c'è scritto che gli sci devono passare a destra o a sinistra del paletto non lo sciatore quindi se io faccio passare gli sci e il mio cospicuo peso lo faccio passare sul paletto va bene lo stesso quanti secondi dava a mancia agli avversari due due e mezzo ecco ci sono le regole e c'è un modo di rispettare le regole di usare le regole a proprio vantaggio che non significa andare contro le regole fregare o altro significa capire in che modo l'esistenza di quelle regole ti aiuta perché se io paradossalmente ne parlavamo anche prima a cena in un certo senso individuo il colpevole di un reato individuo effettivamente la persona che ha compiuto quel reato ma non sono in grado di collezionare delle prove che sono inoppugnabili che sono valide e che diciamo non possono essere contestate beh se ho fatto male il mio lavoro magari quella persona colpevole potrebbe essere potrebbe essere giudicata innocente o peggio ancora se ho fatto il mio lavoro ancora peggio potrei giudicare colpevole un innocente le regole in fondo servono servono a quello io tendo a non fidarmi di chi dice ah no io non faccio le cose seguendo le regole perché magari nove volte su dieci fa bene ma la decima volta in cui fa male fa un casino veramente enorme quindi quando si parla di polizia quando si parla di procedura quando si parla quando qualcuno mi dice io seguo le regole mi sento francamente abbastanza rinfrancato senti Marco tempo fa in un'intervista in un'intervista a una prestigiosa rivista online Milano Nera l'hai detta a me hai dichiarato di ritenerti uno scrittore di intrattenimento e di non voler veicolare nessun tipo di messaggio è ancora così è così anche per te o nel tempo è cambiato qualcosa io sono uno scrittore di intrattenimento noi due in coppia forse lievissimamente meno nel senso che forse un pochino di intento minimamente forse diciamo che un intento però alla fine è venuto fuori un libro un po' diverso però all'inizio l'idea era quella di scrivere un giallo che potesse essere divertente che il lettore potesse dire vabbè io arrivo questa sera ah bene ho il librino sul comodino il mio librino blu mi rilasso per mezz'ora e poi dormo e intanto mi svago la testa mi dimentico delle cose che non sono andate bene oggi quindi non è intenzionale poi in realtà dopo averlo scritto magari ci siamo resi conto che in effetti avendo come protagonista come protagonista queste due donne circondate da un coro di personaggi femminili perché poi ce ne sono tanti ci sono le suore ci sono le amiche di Serena ci siamo resi conto che forse questa volta qualcosa di un pochino più serio lo abbiamo e poteva venire può venire fuori e tanto per incominciare abbiamo un paese in cui c'è l'unica scuola che può essere frequentata dai bambini è una scuola gestita da suore e quindi che tu sia d'accordo o meno alla fine mandi il figlio in questa scuola perché non hai possibilità perché sono le uniche che ti garantiscono il servizio di tenere i bimbi fino a una certa ora e quindi diciamo noi viviamo appunto in un paese dove effettivamente le scuole ce ne sono pochine e quindi già questo secondo noi uno potrebbe leggere il lettore potrebbe dire ah aspetta effettivamente questo è uno dei problemi dell'Italia ci sono poche scuole e è inutile parlare di Quaterosa se poi non ci sono le scuole per permettere alle mamme di effettivamente tornare al lavoro oppure abbiamo raccontato di Serena che appunto in un mondo completamente maschile anzi maschilista decide di fare una follia e abbandona la sua laurea in chimica ecco quella lì è una scena che è realmente successa a una nostra amica una laureata in fisica con un dottorato in ingegneria che non veniva mai diciamo appellata come la dottoressa Kelly ma lei era semplicemente la nostra cara diciamo la nostra cara Serena e alla fine anche lei effettivamente ha fatto la follia e ha cambiato per fortuna ha potuto continuare a fare la fisica però ecco appunto senza averne l'intenzione forse in questo libro abbiamo sottolineato qualche argomento un po' più serio allora poi smettiamo subito sì infatti smettiamo subito perché dato che della trama non posso dire troppo io volevo prendere spunto da alcune situazioni in cui si trova Serena nel libro per capire come reagiscono i signori Malbandi per esempio che rapporto avete con le chat scolastiche io ottimo non le cao minimamente proprio lui non c'è non c'è ma abbiamo il rapporto che vabbè ora il bimbo è alle medie quindi la chat è molto depotenziata insomma i bimbi si gestiscono da soli devo dire però che vista l'esperienza delle elementari io ho scelto di fare la rappresentante di classe quindi adesso sono io che molesto le altre mamme allora e con i ciclisti della domenica perché voi nel libro ne descrivete due gruppi sì allora con i ciclisti allora premettiamo questo in Toscana il rapporto con i ciclisti è difficile specialmente se uno vive vicino a Lucca perché nella provincia di Lucca è concentrato più o meno il 95% del gota ciclistico mondiale tutte persone che chiaramente per la loro disciplina si devono allenare in strada no e appunto te dici io ne descriviamo due gruppi in realtà il ciclista classico innanzitutto è pervicacemente convinto che il codice della strada gli permetta di andare appaiato in gruppi di quattro allora io vivo in Brianza che credo in questo assomigli molto alla Toscana ma soprattutto vanno in quattro perfettamente griffati sì no questo è meraviglio oltretutto ha una velocità di crociera particolarmente molesta ma non è questo il problema il motivo per cui il il Toscano medio ce l'ha con il ciclista è che grazie al ciclista ha rischiato l'omicidio stradale senza alcuna colpa più o meno 10-15 volte io vorrei contare il numero di volte in cui io sono fermo al semaforo rosso ho la freccia per voltare a destra il semaforo diventa verde io parto il ciclista mi sorpassa a destra perché lui non si può fermare stai usando la strada dovresti avere un minimo di contezza di come ci si comporta sulla strada detto questo per fortuna non l'ho preso non tempo attivi fuori la carabina lo uccidi a 100 metri di distanza così non puoi essere accusato però no è questa la cosa al di là di tutto il ciclismo è chiaramente uno sport è un'attività fondamentale però è molto spesso è praticata al di là del diciamo al di là del regolo al di là del consentito da molti punti di vista la gara della questura di cui parliamo nel libro esiste davvero esiste davvero un gruppo di persone che si trovano ogni mercoledì e ogni domenica alla questura di Lucca e fanno una vera e propria gara clandestina sono molto spesso persone corridori che sono stati squalificati dalle gare ufficiali e si trovano potete trovare i video su youtube corridori di altissimo livello campioni del mondo ex campioni del mondo uno di questi non può più partecipare a queste gare perché ha qualche problema di libertà personale da qualche mese a questa parte però ecco queste persone se il semaforo è rosso devono passare se uno salta la rotonda tutti gli altri devono saltare la rotonda perché è una gara ecco è perioloso un ciclista figuriamoci 45 per di più diciamo non tutti esattamente in condizioni farmacologiche inoppugnabili ecco quindi un'altra cosa sempre riferendomi al libro come rispondete alle telefonate commerciali lui è fantastico e immaginavo per quello l'ho chiesto sì 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 dacci una prova dai sono varie ditte quelle che possono rispondere al telefono perché io ho questa abitudine cretina quando suona il telefono di rispondere e vedo un numero sconosciuto rispondo con la prima cosa che mi viene in moente tipo la carpanesi e masoni sciacallaggi in zone terremotate dica oppure la bagonghi battelli gonfiabili in ghisa dica o cose del genere talvolta appunto rimediando figure di merda orribili perché all'altro capo del telefono ci può essere tipo Paolo Virzi ma queste sono cose che una volta secondo quanto hai raccontato all'inizio dall'altro capo del film c'era Antonio Sellegio sì sì e io gli ho detto sì e io sono Josef Stalin e ho buttato giù meno male ha ritelefonato se no non eravamo qui ero a vedere la partita ma molto più triste no la telefonata commerciale dipende a volte si risponde in maniera queste persone stanno lavorando per cui tenti di non fargli perdere tempo tenti di farlo in maniera simpatica così si fa una risata tutte e due e loro possono telefonare qualcun altro ecco e un'altra cosa cosa vi fa mugugnare come marittimi genovesi non è carino però come cosa vabbè il diritto di mugugno è sacro esatto poi io ho origini genovesi quindi insomma proprio il mugugno mi viene bene di solito mugugno se allora intanto se il Malvaldi si dimentica le cose in giro mi lascia il frigo aperto gli chiedo per favore vai porta questo sacchetto della spazzatura e poi mi ritrovo il sacchetto della spazzatura due metri più in là appoggiato perché nel frattempo ha suonato il telefono ha risposto al telefono poi è inciampato in un articolo interessante del Corriere poi da lì allora l'articolo parlava di qualcuno e niente il sacchetto è rimasto forse non dovevo farla sta domanda sto distruggendo ma lo sa lo sa è l'unico mugugno sempre quindi ormai lo sa però tanto gli entra da una parte e poi i ciclisti decisamente mi fanno diventare una belva proprio serena sono io in quel caso e poi non lo so più una cosa è piccola più di solito mugugno perché alla fine è un modo per arrabbiarsi con le cose piccole e ci prendere con maggior filosofia quelle più serie spiega cos'è il diritto di mugugno perché direi ai tempi della repubblica delle quattro repubblica marinare i marinai genovesi potevano scegliere se ricevere la paga completa oppure una paga decurtata ma con diritto di mugugno con mugugno libero esatto e quindi avevano il modo e quasi tutti sceglievano il diritto di mugugno perché vuoi mettere la soddisfazione allora voi lo sapete tutti che il giallo mediterraneo dalla Spagna alla Grecia è caratterizzato dalla presenza del cibo grosse mangiate si mangia un sacco nel giallo mediterraneo è così nel giallo pisano è leggermente diverso perché c'è l'algoritmo per ottenere le patatine fritte di mamma ora se te lo ricordi se no se vuoi leggerlo tu perché è una cosa che è angosciante io vorrei che alla fine di tutto questo voi mi confessaste che ogni tanto prendete delle patatine con un peso a caso le buttate una quantità di olio a caso con una temperatura forse bollente ma magari no e le mangiate senza farvi tutte ste qua ho il pezzo vado vado a logica faccio finta di sapere la chimica ma fondamentalmente allora ci sono delle cose che vanno fatte primo si prendono le patate quelle giuste patate rosse patate bianche si tagliano non si lavano quando sono già tagliate perché si porta via l'amido che è la cosa che diventa croccante si fanno prima al vapore perché le patate fritte vanno fatte in doppia o in tripla cottura cioè il procedimento che serve per farle diventare morbide non è lo stesso che serve per farle diventare croccanti quindi o si cuociono prima al vapore oppure si mettono prima in un olio a temperatura bassa poi si tirano fuori si prepara il forno la 180 è uno dei passaggi più importanti e non lo fa quasi nessuno si vergano prima se proprio bisogna si vuole essere maniaci nell'acqua con cui si cuociono a vapore si mette un pochino di bicarbonato che scioglie la pectina in superficie le rende ancora più rugose dopodiché si prepara l'olio a 175 ci si vergano dentro le patate ci si vergano è chimicamente è proprio il termine chimico appropriato vergano perché proprio prevede il gesto del vergarcele dentro e una volta tirate fuori dopo averle cotte per tre minuti cioè 180 secondi non sono né 178 né 183 si mettono in forno a 180 perché se no la patatina si fredda il vapore acqueo nei microfori diventa acqua ciuccia e quindi la patatina si ammoscia ora questa cosa qui ogni tanto le patatine fritte si possono fare anche in altri modi cioè non è necessario non è fuori meno male perché si però vengono meno buone cioè il fatto è questo se fai le patatine fritte a modo ci metti mezz'ora e magari ti viene anche il giramento di coglioni ogni tanto però poi le patatine fritte che assaggi ti fanno passare ogni e qualsiasi a te e a tutti gli altri per cui le fai è questo magari se fai le patatine fritte a cavolo ci metti un quarto d'ora però si le mangi sono buonine e anche quell'altro le mangiano e sono buonine perché secondo cioè perché a me piace fare le patatine fritte così o a lei lei non tanto sulle patatine fritte quanto sulle brioche ma sulle brioche è maniaca il doppio perché uno non cucina per sé ma cucina per sé e per gli altri e a quel punto gli altri hanno il diritto se ti dico ti faccio le patatine fritte patatine fritte sono uno di quei momenti della vita che devi godere come un papero non ha senso farle così tanto per fare vanno fatte buone altrimenti non le fai oppure quando stavo in Olanda le andavo a comprare e rimangono al muro e rimangono le patatine fritte più buone che si potessero pensare quando sono qui a volte le faccio io però se le faccio vanno fatte in quella maniera se no altre cose si possono abborracciare le patatine fritte no sono troppo importanti vostro figlio cosa dice che adesso ha due genitori che vanno in giro il primo sentivo che vi chiamava perché vi siete scordati di avvisare che eravate arrivati non si fa non si fa perché si chiama il figliolo che poi il figliolo si preoccupa mi ha fatto ridere perché dice il figliolo si preoccupa e diceva no no siamo arrivati tranquilli cosa dice vostro figlio di questi due genitori che scrivono vanno in giro parlano di morti ammazzati e patatine fritte con tutto questo procedimento mugugna mugugna ha diritto al mugugno libero sì 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 no mugugna anche perché non ci ha abituato fin da quando è piccolino ho sempre visto Marco andare in giro magari per due giorni tornare e io sono sempre stata presente quindi adesso è grande però insomma più che altro mugugna poi perché gli tocca stare a casa della nonna sì che lo adora lui adora lei però insomma è sempre casa della nonna non è casa sua quindi al quarto primo consecutivo comincia a accusare un pochino perché la nonna è pur sempre la nonna e l'amore della nonna si misura inetti in piatti di pasta e al ragù ma per esempio nel libro per ragazzi che avete scritto avete cercato di coinvolgerlo in qualche modo avete chiesto avete seguito qualche magari suo suggerimento qualcosa che gli è piaciuto cioè è coinvolto in qualche modo in questa vostra passione allora direi che è coinvolto perché vabbè appunto è da tanto tempo che ci sente discutere magari a cena o quando in momenti di relax di omicidi di moventi ah sai ho trovato un bel sistema perché immaginati se una persona si ritrovasse insomma ci sente costruire queste trame più o meno logiche ben costruite e quindi è incominciato anche lui ogni tanto ci dice sai avrei pensato un bel modo per uccidere una persona allora tu immaginati di essere in un rifugio di montagna tutto questo mentre siamo a cena fuori quindi no però chiusi fuori l'alletto però non ci ha dato non direttamente non direttamente spunti però la cosa secondo me è secondo me lo 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 interessa piacerebbe di più che si interessasse di meno al lavoro dei genitori e di più a quello degli altri cioè che leggesse un po' di più perché fino a questo momento è abbastanza impermeabile però magari col tempo ma com'è scrivere per ragazzi perché voi in fondo si ammazzate la gente ma lo fate in modo anche divertente educato carino e non sporcate per cui sono dei gialli che potrebbe reggere anche un ragazzino ma cosa c'è di diverso nello scrivere un giallo proprio pensato per dei ragazzini adolescenti adesso non so quale fosse il tag sentivo delle medie la prima cosa al di là del torpilocchio che io non uso comunque praticamente mai nei libri per ragazzi è che uno deve parlare delle cose che interessano i ragazzi cioè un libro per ragazzi non è un libro per minorati mentali che non sono in grado di capire la vita come talvolta erano i libri per ragazzi che mi propinavano per esempio alle scuole medie mi ricordo un libro terrificante spero che non si usi più che si intitolava ECAP missione pianeta terra era orribile ecco appunto ecco io e lui siamo stati vittime di questa tortura per conto terzi per cui uno se lo segna se lo lega perdito poi ecco questo è il primo è il primo è il primo aspetto ringrazio il signore a cui ho dato 50.000 lire perfetto guarda grazie fantastico fantastico quindi dobbiamo andare in missione e bruciare tutte le copie e sostituirle con il barone rampante esatto esatto ecco il questa è la prima cosa cioè non è che devi scrivere un qualcosa di semplice devi scrivere un qualcosa che gli interessi è diverso e poi lo devi scrivere qui in maniera veloce noi abbiamo cercato almeno vedendo quanto nostro figlio sia refrattario alla lettura abbiamo pensato vediamo di interessare chi si ritrova in mano questo libro e quindi abbiamo cercato di essere rapidi perché in fondo i ragazzi oggi sono abituati ai social alle comunicazioni velocissime ai video brevi e quindi i capitoli sono stati pensati proprio per essere corti due o tre pagine e avere un gancio da un capitolo all'altro in modo da cercare di incuriosire e accalappiare la loro attenzione quindi e poi vabbè il morto ci sta sempre bene il morto si porta con tutto nei gialli anche perché i ragazzi così come gli adulti capiscono benissimo che sono morti di carta che nessun essere umano in carne e ossa è stato maltrattato per scrivere il libro non sono state fatte prove sperimentali per vedere se effettivamente quello che diciamo è corretto e questa è una delle cose più importanti secondo me che che noi addestriamo quando leggiamo noi siamo in grado di ragionare su cose che non esistono e di far finta che esistano davvero e di usarle per capire come funziona il mondo nella realtà questa capacità ce l'abbiamo fin dal momento in cui impariamo a parlare più o meno è molto importante esercitarla in continuazione non confondere il libro che leggiamo con la realtà capire che ci sono vari livelli di astrazione e capire quello giusto è un qualcosa che ci viene naturale non abbiamo bisogno di studiarlo o peggio ancora di essere torturati con schede di lettura che ci chiedono hai capito cosa succede in questo capitolo del libro e ti viene di rispondere non sono cretino certo che ho capito per quale motivo me lo chiedete senti ho partito ormai il countdown io volevo sapere la cosa più strana che vi è successa durante una presentazione questa di stasera diciamo questa però parte dalla prossima volta la cosa più strana che ci è successa io ho poca esperienza di presentazioni quindi sono ancora la cosa più strana che mi è successa in presentazione no veramente mi hanno chiesto qual è la cosa più strana perché qualcuno dei polizzotti mi hanno detto ha arrestato uno sul palco che era salito beh sì purtroppo a questo livello non ci siamo non ci siamo ancora arrivati ecco una cosa strana che mi è successa è stata questa che io scrivo gialli e una volta sono stato presentato da un simpatico professore dell'università di Pisa che ha fatto una prolusione prima della presentazione di circa 40 minuti durante la quale ha detto chi era l'assassino e questa come presentazione di un giallo non è il massimo poi uno che fa troppe schede di lettura rischia di trovarsi da quella parte della barricata ti scordi della realtà questa insomma ci sono rimasto abbastanza meglio un'altra volta un'altra volta non proprio durante durante una presentazione ma una persona diciamo evidentemente molto emozionata evidentemente molto miope mi ha fermato per la strada al festival di Mantova e mi ha chiesto l'autografo aprendomi di fronte il libro di Dan Brown che parlava in un perfetto italiano quindi questa cosa è stata molto bella devo dire quindi l'hai fatto l'article no la cosa bella è che mi sono anche informato non c'era Dan Brown al festival ovviamente perché io per lì mi ero stupito sai ho scambiato però ho firmato Dan Brown e questa cosa a Mantova succede spesso è delirio alcuni libri di Giorgio Faletti sono stati firmati da sette otto scrittori diversi perché evidentemente è una faccia che si confonde senti in un minuto progetti futuri tu poi non so se poi insieme scrivete anche altro che scrivete di fisica libri per ridere aggiungere acqua era uno no? una cosa del genere come era il titolo adesso l'ho sbagliato per ridere aggiungere acqua no no vabbè progetti futuri dunque ora per quello che riguarda me e basta uscirà a aprile un libro sempre un giallo storico intorno alla figura di Galileo Galilei Pisano anche se poi è cresciuto a Padova e poi faremo un altro faremo perché ormai lei è coinvolta a pieno titolo anche se non comparirà forse il nome un altro libro dei vecchietti perché i vecchietti sono un brand malvaldi quindi però però gli ultimi due libri dei vecchietti a bocce ferme bolle di sapone la trama era totalmente sua quindi in questo caso e poi niente poi poi vedremo poi magari il libro di cucina prima o poi dovremo farlo purtroppo Bressanini ha fatto il libro di scienza delle pulizie ci ha fregato a proposito di cucina scelte in due due bottiglie così potete sperando sperando che vi sia di ispirazione per il prossimo romanzo grazie mille buona serata e a presto a Marco Malvaldi e Samantha Abruzzone grazie a voi buona serata grazie Cristina grazie naturalmente sono a disposizione per la firma copie cinque minuti e poi riprendiamo col prossimo incontro con Piero Colaprico grazie a tutti 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 Grazie a tutti